Musica Puntuale Adam Quanto ci vorranno, bellino? Beh, direi... Mi sto già rompendo Tu hai del Nesquik? Solo ho la banana Cazzo Vuoi fare un tiro? No, grazie Perché c'è una passera sul muro? Cosa? Dove? Quella? È un'orchidea Mia madre ama tanto la flora e la fauna Meglio non in casa, scusa Insomma, ci vorrà solamente mezz'ora, quindi... Se continuo a lavorare Durante e non dopo un bagno... Ci sono delle palle in televisione Scusa, scusa Io ho dimenticato il mio DVD È il mio porno Un po' vecchio Prova Pornhub C'è un sacco di roba Tipo dei demoni che scopano i cavalli Devo pisciare Di sopra Sulla destra C'è un sacco di roba